Allora Berlusconi è tornato ad accarezzare l'idea di tornare in Parlamento, il piano sarebbe puntare sul fatto che forse un senatore di Forza Italia potrebbe essere eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi si libererebbe un posto, parlo ovviamente lui nominale, e Berlusconi potrebbe giocarsi questa partita per tornare in Senato. Corrisponde a verità tutto questo oppure no? Non so se corrisponde a verità, è certamente tecnicamente possibile e io credo che il ritorno di Berlusconi in Parlamento sarebbe un bullus cominciato ormai molti anni fa per questa democrazia, sarebbe un bel gesto, un bel segnale, lì da un partito che rappresenta circa 4 milioni, qualcosa di più di elettori, è stato espulso dal Parlamento a mio modo di vedere in modo totalmente ingiusto, e quindi se oggi ci tornasse sarebbe anche fisicamente, dopo la riabilitazione sarebbe anche visivamente per sanare quella ferita la nostra democrazia.